Buon poveriggio dall'Ippodomo delle Capannelle per questo convegno di sabato 13 novembre. I puleti della prima corsa sono già dietro le ali dell'autostart. Il premio Romino Key, uno Dark Robin, due Mr. Joe, quattro Don Diego, cinque Dacovo Mail, sei D'Arrigo, sette Dorotea. Non corre con il numero tre Dingo LC. Betting diviso tra Mr. Joe e Dacovo Mail, 150 metri dallo stacco con i cavalli abbastanza bene a rete, leggermente discosta Dorotea. E poi si ritrae. Allo stacco il più veloce con il numero quattro è Don Diego che tiene all'esterno Dacovo Mail e più indietro Mr. Joe. E così si va ad affrontare la prima piegata. Gli altri che inseguono con Dacovo Mail che ora cerca di andare su Don Diego per chiedere strada all'apice della piegata. Dacovo Mail che mette la figura davanti e prova a passare dopo quattrocento metri, operazione che riesce. Il primo quarto è andato in trenta e quattro. Dacovo al comando nei confronti di Don Diego. Quindi Mr. Joe poi ancora con il numero uno Dark Robin, i 600 che vanno via nell'ordine del 46 e mezzo. Con il plotone in fila indiana ora interrotta da D'Arrigo che cerca di proiettarsi a largo. seguito da Dorotea in mezzo anticipo c'è Mr. Joe che non vuole farsi coprire metà gara in 1 e 3 scarsi. Con Dacovo Mail che per ora ha potuto gestire dopo essere passato al comando. Ora ha messo decisamente la figura all'esterno Mr. Joe che va a produrre il suo sforzo. 1.18 il passaggio al chilometro con Mr. Joe che giunge al sediolo di Dacovo. All'interno sempre Don Diego. Poi ancora Dark Robin con Dorotea che chiude il plotone. Si va così a metà della piegata conclusiva con ancora Dacovo Mail che per il momento conduce. Don Diego che cerca lo spazio per uscire. Mr. Joe che sembra un pochino accusare lo sforzo. Dal fondo del gruppo emerge Dorotea che propone il suo spunto molto veloce. Davanti cerca la fuga. Dacovo Mail a 450 matri dal palo. Dacovo che deve esistere il ritorno di Dorotea. Dorotea che ci si va su Dacovo sul palo. I due praticamente appagliati. E quindi dovremo rivedere se è riuscita nell'impresa Dorotea di acciuffare Dacovo Mail. In mezzo ai due c'è anche Don Diego. Anche qualche problemino di andatura per il cavallo all'interno sul palo. Sembrerebbe comunque Dorotea aver messo il musino davanti all'avversario. Chiaramente dovremo attendere il risponso del giudice di arrivo. Tempo è di 2.2 sul cronometro 1.16 per abbondante. La media per probabilmente il successo di Dorotea. Ma attendiamo la conferma. Grazie. Grazie. Grazie.